Tribù rossonera, amici di ogni dove, amici di ogni squadra, ma soprattutto amiche, bentornati all'appuntamento con il vostro Marietto Milanista. Le dovute condoglianze, come avete visto nel mio ultimo video al grande dello sport Kobe Bryant, già sono state fatte con tutto il dolore del mondo che ci accomuna tutti noi sportivi. Però, come dicevano i Queen, the show must go on, lo spettacolo continua, visto che ogni giorno ci sono morti e nascite, morti e nascite, e nel mondo ogni giorno muoiono anche tantissime persone per fame, per carestia, per guerre. Però ieri è stato un dovuto omaggio a un grande dello sport. Quindi ringrazio ancora Kobe per tutto ciò che hai apportato in questi 41 anni di questa tua vita. Detto questo, ragazzi, torniamo a noi, torniamo all'analisi. Oggi è l'analisi della ventunesima giornata di campionato di Serie A e sarà la solita analisi accompagnata dalla bolletta che è stata fatta la settimana scorsa. Innanzitutto, questa giornata è stata caratterizzata da passi lenti nell'alta classifica. Ci sono stati i pareggi della Lazio e dell'Inter e la sconfitta contro il Napoli per parte della Juventus. Questa realmente è stata un po' la sorpresa della giornata, ma anche il pareggio in casa dell'Inter col Cagliari è stata una sorpresa interessante, mentre Roma-Lazio il pareggio poteva anche starci. Chiaramente è un derby, sono due squadre che sono molto vicine anche in classifica. Ma entriamo nei dettagli. Cominciando proprio da venerdì, la nostra vittoria col Brescia di 1-0 ha fatto sì che siamo al sesto posto adesso in classifica. Ciò vuol dire che siamo dentro, nella testa, col corpo e coi piedi, in Europa. Siamo in Europa. Adesso Europa League, ok, siamo a meno 7 però dalla zona Champions, quando fino a qualche settimana fa ci volevano i binocoli per vedere addirittura il sesto settimo posto per l'Europa League. Quindi, alla seconda di ritorno, Milan sesto posto per azzittire tutti coloro che già ci volevano vedere in Serie B. Che era impossibile. Il Milan... dai, parliamoci chiaro. Come cacchio fa andare in Serie B. Dai, non scherziamo. Deve esserci proprio un tracollo. Ma... era inimmaginabile una cosa. Quindi, io quando ascoltavo queste cose mi veniva da ridere. Ho detto, è impossibile. Però detto questo, ragazzi, la bolletta è stata presa perché era un X2. Il Brescia ha fatto un'ottima partita. Anzi, non meritava minimamente di perdere. Tutto il contrario. Forse meritava anche di vincere. E lì, navigando in acque melmose, che comunque sarà difficile uscirne. Spal Bologna io ho messo 1x e stava vincendo anche 1-0 con gol di Petagna a inizio rigore. Poi si è fatta ribaltare tra uno nel derby Emiliano-Romagnolo. E... alla fine ha vinto il Bologna. E questa è stata una delle due partite che non si è azzeccato. Il Bologna ha fatto la sua onesta partita. La Spal, invece, se la deve continuare a giocare per la salvezza. E quindi diciamo che sta dando seguito a ottimi... un ottimo campionato. Cioè il Bologna comunque è... arriverà a una salvezza tranquillissima. Solo una cosa che comunque volevo aggiungere, apro e chiudo, per tutti coloro che si sono schierati contro Mijajlovic per aver detto quello che pensa politicamente. In una società libera, in una società democratica, ognuno esprime il suo parere. Che sia di destra, che sia di sinistro, di centro, ove, su, sotto, sopra. E un uomo come Mijajlovic ci sarebbe solo da starsi zitti. Soprattutto voi bolognesi. Punto. Fiorentina-Genoa avevo messo 1x e alla fine è stato uno squallido 0-0, che comunque non aiuta né a uno né l'altro, perché il Genoa comunque sta sempre là nei bassi fonti e la Fiorentina lì è una mezza classifica, che non so quanto gli serva, ma soprattutto per capire che tipo di ambizioni ha. Magari vediamo in Coppa Italia contro l'Inter, quello con Cominerano, perché è l'unica, diciamo, via di uscita, una via di salita per poter entrare in Europa. Torino-Atalanta, meno male che l'Atalanta era in crisi. 7-0 ragazzi, io avevo messo 1-2. Perché avevo messo 1-2, che comunque l'abbiamo preso? Perché ho detto magari veniva da due sconfitte l'Atalanta tra Coppa Italia-Fiorentina e in casa con la Span. Ho detto se perde un'altra volta è crisi, ma andatevi a vedere il video, se ciò non passasse, significa che era solo, diciamo, un dolore di pancia passeggero. E così è stato, perché gli ha dato l'ammazzata al Torino, veramente l'ha annientato. Una squadra indegna di portare i colori Granata, perché comunque è una società gloriosa ed è la prima volta nella sua storia che ha preso 7 gol in casa e perdendo 7-0. Quindi veramente allucinante. L'altra volta che aveva preso 7 gol, l'unica volta fuori casa per il 7-0, è stata contro di noi nel 1950. Inter-Cagliari 1-1, avevo messo più 1,5. Una partita che pensavo che comunque si mettesse, in ogni caso, liscia per l'Inter. Invece si è complicata la vita da sola, con quel gol autogol sul tiro di Nainggolan e alla fine con l'espulsione di Lautaro Martinez, che adesso rischia seriamente di saltare il derby, che per noi è solo un piacere, chiaramente. L'Inter comunque ha avuto anche la fortuna che nonostante tutto anche Lazio e Juve non abbiano avanzato più di tanto, con la Lazio in pareggio e la sconfitta della Juve, quindi rimane sempre lì agganciata al treno dello scudetto. Parma-Udinese 2-0. L'Udinese penso che è stata stordita da quel 3-2 nostro l'altra settimana. Questa settimana ha dovuto soccombere al Parma. Il Parma comunque se la sta giocando per l'Europa League, un 2-0 che la fa rimanere nelle zone alte, comunque al settimo posto. Samp-Sassuolo, uno squalido 0-0 che, diciamo, può servire più al Sassuolo, che ha fatto un punto fuori casa che non alla Samp, che comunque si vede un po' contratta, dopo il 5-1 di settimana scorsa contro la Lazio. Nonostante la settimana prima ancora avesse vinto 5-1 col Brescia, quindi ancora se la deve giocare, però sicuramente sta meglio rispetto a quelle che in questo momento stanno sotto, per arrivare appunto a Verona-Lecce. Verona-Lecce 3-0, risultato netto, meritato. Già da settimane sto dicendo che il Verona sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative e una delle vere sorprese di questo campionato è il Lecce sta affondando. Il Lecce sta affondando clamorosamente. Aveva avuto un momento all'inizio dell'anno che, soprattutto fuori casa, dimostrava di essere una squadra all'altezza per potersi giocare la salvezza, ma se va di questo passo la vedo molto molto difficile. Il derby di Roma si è caratterizzato dal nervosismo, come sempre. Una partita molto contratta, dove un errore madornale lì di Paolo Opez, la indifesa, cioè quel gol di Acerbi, realmente se esistesse ancora mai dire gol, entrerebbe proprio nel gollonzo della settimana. Questo è stato un gol assurdo. Pareggio che comunque mi ha fatto perdere, anche in questo caso la bolletta, cioè una delle due partite che ho perso. Ho messo 1-2 pensando che questo derby non finisse in parità. Niente, non è andata. Napoli-Juve ha messo più 1,5, è stata presa la bolletta. Grande vittoria di carattere dei ragazzi di Ringhio Gattuso. Un 2-1 meritato. Il Napoli ha fatto una bella partita, un grandissimo gol di Lorenzo Insigne. Spero per i miei amici napoletani che questo possa essere anche un ritorno in auge per poter dare un senso a questo campionato, visto che avete ancora in palio Coppa Italia e Champions League. Detto questo ragazzi, continuiamo a iscriverci al mio canale, sempre con plin 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 plin, campanellina accesa per rimanere sempre aggiornati sull'entrata di ogni mio nuovo video. E niente, rimaniamo in contatto e vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video, ricordandovi sempre Forza Milan ovunque e comunque. Ciao!